Buonasera, chi vi parla è stato designato dalla redazione di Rieducational Channel per leggervi il seguente comunicato stampa. A seguito della protesta per il mancato rinnovo del contratto indetta dalle annunciatrici tv nonché conduttrici, nonché telespettatrici, nonché assistenti alla regia, nonché produttrici, nonché docenti, nonché dottoresse, nonché veline, nonché subrettine, nonché lettierine, scusate lettierine, nonché reciste, nonché e perché a nuova compagna di fini o fa tutto e noi no, a o, ma che ci avevo scritto un faccia gioconde, a o, ma che c'è stato a prendere puntini, puntini, puntini sospensivi? No, cioè no, è giusto, è giusto, adesso è giusto, quando è giusto è giusto, voglio dire, adesso no, perché io, no per andare contro una persona in particolare, per carità, io niente contro la compagna di fini, però voglio dire, non è che se io sono a compagna de falso e fruttarolo, allora non posso fare tutto pur io, perché non è giusto così, adesso no per andare contro una persona, per carità, non per andare a trovare luogo nel pelo, come si dice, e il pelo nel luogo, vabbè, l'uovo nel pelo, il pelo nel luogo, scusami, ma è la stessa cosa, cioè, e adesso tu veramente sei a trovare luogo nel pelo, e no, vabbè, ma è, no, vabbè, vabbè, l'uomo del ponte ha detto no, ha detto non è la stessa cosa, lo sapevate? E non lo sapete, che c'è stato l'Educational Channel, lo sapevate? Non lo sapevate? C'è stanno i mei, io rompico! A seguito della protesta per il mancato rinnovo del contratto indetta dal personale TV di Re-Educational Channel, le annunciatrici TV hanno deciso di protestare leggendo gli annunci dei programmi, mostrando solo una parte del loro corpo, PS, puoi aderire anche tu, se vuoi aderire, mostra anche tu questa parte del corpo, PS2, se non lo fai, sei una grandissima storia, cioè, no, carità, adesso, non perché uno non vuole aderire, anzi, cioè, è una giusta causa, voglio dire, cioè, no, per carità, è giusto, però, cioè, là non mi sono manco truccata, non lo so, cioè, non è perché, cioè, io poi, sapete, no, sono io, proprio contro tutti i tipi di discriminazione, non esiste per me, non si deve assolutamente discriminare, perché se uno ti discrimina, cioè, tu puoi discriminare lui, poi quell'altro viene, ti discriminava uno, poi ti discriminava, cioè, non, non, ti discriminava, tutti uguali su Re-Educational Channel, e, no, vabbè, vabbè, no, sì, è una giusta causa, quando è una giusta causa, ma non è che per caso si vuole un po' dell'ossetto, eh, no, perché, no, eh, no, vabbè, te pareva, oh, proprio, mazza, oh, ammazza, cioè, voglio dire, ok, dai, vai, vai, sono pronta, vai, buonasera, trasmettiamo ora su Re-Educational Channel 1, su Re-Educational Channel Channel 2 e su Re-Educational Channel 3, praticamente, va ora in onda a Regi Unificati, il messaggio dell'onorevole C. Guevara, in diretta, dall'Oltretumba, buona visione!